Gratitudine per le forze di polizia, in questo caso l'arma dei carabinieri con la magistratura perché in questo modo si contribuisce dal lato della repressione alla scelta, che in questo caso il quartiere sanità ha già fatto, verso la bellezza, il riscatto, lo sviluppo e la cultura, quindi bisogna andare a individuare quel pezzo di città che ancora c'è, di napoletani, di persone della nostra comunità che invece hanno scelto di delinquere o di far parte di organizzazioni malavitose, non è quello il futuro di Napoli, rassegnatevi.